buonasera a tutti cari amici fan dal vostro nicola e lucia oggi nella stessa giornata in cui ho registrato il video su pay per view royal rumble in preparazione del pay per view faccio il video dedicato essi al mio milan che finalmente dopo circa un mesetto tra pausa natalizia e nonno è tornato a vincere in campionato in casa del cagliari che fresco di festeggiamento di 100 anni di storia da quando è nata la società calcistica una partita sbloccata da leao con assist di castiglieco al 46esimo quindi dopo un minuto dall'inizio del secondo tempo e poi ritorno al gol dopo un bel paio di anni di sladan ibra imovic con l'assistenza di teo hernandez al 64esimo la cosa più importante è che il milan in classifica sembra riprendersi perché al momento ora sto registrando quando si sta disputando lazio napoli sono sullo 0 a 0 quando praticamente il milan è a 25 punti tra ottavo e non a posto a quattro lunghezze proprio dal cagliari che ha 29 punti cagliari che ovviamente non potrà essere superato in questa giornata perché il parma è settimo come il napoli a 25 punti dicevo bella vittoria per il milan primo tempo magari un po contratto visto buon gioco però anche ho detto appunto il cagliari era un po preso dall'aspetto un po del festeggiamento quindi era grindoso voglio di provo voglioso di provare a fare la partita che però i rossoneri i diavoli rossoneri nel secondo tempo hanno fatto loro i dati statistici vedono possesso palla 55 a 45 tiri 6 a 8 2 a 4 i tiri in porta 4 a 4 i tiri fuori punizioni 15 a 15 3 a 6 calcio d'angoli 1 a 2 fuori gioco 2 a 2 le parate 14 a 13 falli 3 a 1 cartellini gialli e poi attacchi 138 a 104 attacchi pericolosi 56 a 58 per quanto riguarda le quote i rossoneri erano leggermente favoriti il 2 era quotato a 2 tra il 2 25 e 2 30 ovviamente per il milan a questo punto ci sarà un piccolo tour de force perché ci sarà la coppa italia in settimana tra pochi giorni poi di nuovo il campionato quindi speriamo io sono fiducioso in maniera però abbastanza cauda calma placata perché dico testa bassa e lavorare bene molto bene perché nulla è impossibile questa squadra visto il blasone che ha vabbè togliamoci le famose sette champions league che ormai il milan non ne vede una da tanti anni comunque anche un posto una piazza in europa league considerando il cambio generazionale perché ripeto ora non è che il milan avendo preso ibraimovic arriverà agli albori no è ovvio che sono gli altri che si devono dar da fare per servirlo per metterlo in buona luce per segnare creare pericoli e lui ovviamente dovrà dare un buon esempio a livello di fiducia di gioco di spettacolarità ai suoi compagni magari sì per esempio biondeck non ha giocato oggi però per lui quella partita che ha visto dalla panchina soprattutto il secondo tempo può essere uno squillo di tromba per dire per esempio ecco se il mister mi mette titolare in coppa italia contro la spalla io insomma devo devo giocare bene perché devo cioè no qui c'è la lotta un po' leao su uso e pionde insomma bisogna devono fare un po' a gara no per affiancarsi ad un pluricampione come ibraimovic che che voglio dire ha visto molti palcoscenici importanti nella sua carriera l'ultimo dei quali dall'altro capo del mondo diciamo con i los angeles galaxy nella major league social però comunque l'importante quello che quando di più che oggi il mio milan sia tornato alla vittoria una bella prestazione anche che dire sempre forza milan io dico però forza le squadre lombardi quindi anche indera dal and eccetera 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 e niente quindi sarà importante vedere in questo mese gennaio e forse un un po febbraio quali come possiamo dire quali allineamenti darà il campionato nelle prime posizioni soprattutto quelle per champions league ed europa league grazie a tutti quando mi verrà il desiderio di fare un altro video ci vediamo buona serata a tutti buon fine settimana a tutti e scusatselo di forza milan